Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. La chiacchierata di questa sera riguarderà quella che viene definita una mostra epocale, una di quelle mostre che hanno segnato una svolta. In realtà ci accorgeremo di un fatto che la mostra sarà il racconto di un disastro, cioè del disastro di una mostra, e che dunque la ricostruzione filologica di questa esposizione straordinaria non coincide con la favola che poi noi faremo della mostra stessa, il racconto leggendario che ne costituirà il valore. Siamo a Milano, Galleria Apollinaire, una galleria che ha fama di essere una galleria d'avanguardia, e dunque strana, particolare. Dal 12 gennaio del 1957, Yves Klein esporrà in questa galleria, a via Brera 4, una mostra che verrà detta la mostra del blu, anzi che inaugura l'epoca blu. Il titolo della mostra era Proposte monocrome, epoca blu. Dunque non quadri, non tele, non opere, ma un termine un po' particolare, già esoterico per certi aspetti, Proposte monocrome. Perché? Perché la mostra, almeno nella vulgata immediata degli uffici stampa, viene descritta come una mostra di soli quadri blu tutti uguali. Anzi, direi che il primo problema che si pone per Yves Klein è il problema del dileggio, della umiliazione, del disagio, se non si accettano le convenzioni e l'andazzo di come dovrebbero andare, andavano in genere le esposizioni, dicevo l'umiliazione e il dileggio che subisce Yves Klein è immediato. Le foto press nella velina riportano quasi sempre la stessa dicitura, esposti quadri completamente blu, al costo di 25.000 lire. Vedremo quanto è importante questo, cioè gli undici dipinti tutti blu, noi abbiamo un fotogramma molto prezioso di una sezione della parete, in un filmato che dunque ci dà la possibilità di vederli a colori, poi parleremo dell'allestimento, vedremo come erano allestiti. Ebbene, le veline raccontano delle fotopresse che questo pittore inizardo, sedicente pittore in realtà, Yves Klein, espone quadri che lasciano molto perplessi. Prima di tutto perché sono completamente blu, senza una virgola, senza una macchia d'inchiostro né di altro colore, la gente entra, li guarda, ride o esce indispettita. Il dileggio poi è anche su un elemento che è girata alla voce all'indomani dell'inaugurazione, 2 gennaio del 57, che due delle opere sono state vendute. Vedremo a quanto, si dovrebbe presupporre, ma vedremo che non è così, 25.000 lire, chi le ha comperate, su questo si scherza molto, e cioè si ritiene che è bene affrettarsi perché quando finisce il periodo blu probabilmente inizierà un periodo rosso e dunque c'è il rischio di rimanere senza queste preziose opere, questi quadri preziosi. Allora, quando gli articoli non sono o le indicazioni di stampa su questo tono di delisione che rendono degna di attenzione, cioè di recensione la mostra, altrimenti non se ne parlerebbe neanche, dicevo quando non sono di dileggio sono di offesa. In particolare c'è un elemento che offende i critici, diciamo, più seri, in particolare ricordo un articolo di Valsecchi, tra i più seri, pur nella sua cecità o ostilità. Il fatto che il critico che ha presentato la mostra, Pierre Restany, abbia addirittura osato paragonare il blu di Yves Klein al blu di Giotto e della Cappella degli Scrovegni, al cielo degli Scrovegni, al cielo del ciclo di Assisi della Basilica Superiore, e cioè di aver contaminato l'assurdità di questi monocromi insensati con la tradizione sublime del blu oltremare, lapislazzoli, dei cieli, degli empirei, delle vesti della Vergine Maria, di quello che vedremo è il colore della incarnazione dell'immortalità. Dunque, se si prende sul serio l'indicazione, questo porta a un'offesa, a sentirsi offesi dal dover paragonare il blu di Yves Klein con il colore che appartiene al mito della pittura dell'azzurro, lapislazzoli, oltremare, infinito, immateriale. Dunque, con una terminologia tutta poi di Yves Klein. Lo stesso Buzzati, che scrive un ottimo articolo, pieno di attenzione, di delicatezza, senza rinunciare, ovviamente, a quelli che sono gli stilemi del giornalismo che deve essere brillante, accattivante e attirare il lettore, dunque scherzando anche lui, ebbene, l'articolo di Dino Buzzati, si intitola Blu, 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 e in realtà è l'inizio di un'avventura di attenzione, di curiosità vera e seria dello scrittore Buzzati nei confronti di Yves Klein. Sarà il primo di tre articoli, direi uno più importante dell'altro. Poi ci sarà Sortileggio a Notre Dame, e poi, tragicamente, Addio ad un folletto, e cioè l'articolo in morte di Yves Klein, che si spegne a 34 anni, in seguito all'ultimo dei tre infarti colpi al cuore. Ma anche Dino Buzzati deve calcare la mano su alcuni elementi. Uno, l'assurdità del fatto che il visitatore vedrà tutte tele identiche, 56 cm x 78 cm, disposte, come vedete in questa immagine, in maniera non simmetrica, ma come sfasate, spostate, primo elemento, secondo elemento, sono distanziate dalla parete e in dei supporti che in un certo senso dovrebbero suggerire un galleggiamento, una sospensione, il termine proposte e anche il termine proposizioni, emanazioni di questo Blu, non sono incorniciati, non c'è ovviamente il vetro, perché si tratta di materia, d'aura divina, e sono impregnate di Blu, non sono pitturate, sono impregnate di questo colore. Dino Buzzati, dicevo, non può neanche lui non cominciare o collaborare al dileggio in maniera molto delicata. Ad esempio, lo sappiamo, Yves Klein è un campione, è un professionista, altissimo professionista, quarto danne di Judo. Dunque bisogna comunque richiamare l'attenzione che questo artista è campione di Judo, maestro di Judo. Si aggiunge anche un particolare, non verificabile, allevatore di cavalli da corsa. In più, per rendere ancora più interessante il circo, l'elemento circense della mostra o dell'evento per attirare gli spettatori, si aggiunge a un particolare che, in settimana, a pochi giorni dall'inaugurazione, in un locale che in realtà c'era, cioè è vero, a San Senatore numero 5, c'era un locale giapponese di incontri culturali, incontri culinari, incontri letterari giapponesi, e lì Yves Klein darà una dimostrazione di Judo, di elementi dell'arte e della meditazione che ha portato avanti in termini altissimi. Dunque, allevatore di cavalli da corsa, campione di Judo, tutti identici, i quadri con un particolare. Buzzati, che ha veduto la mostra, molti non l'hanno veduta la mostra, molti che scrivono, ripetono puntualmente la velina delle fotopresse, che adesso vedremo, fra poco, cioè il servizio fotografico che viene fatto, dicevo, Dino Buzzati ci dà un particolare importante. 11 tele tutte identiche, tutte blu, 56 per 78, più una dodicesima tela rossa, quadrata, non rettangolare, non ci viene detta la misura, non ne abbiamo testimonianza, ma anche questo è un disastro di informazioni. Perché? Perché il rosso potrebbe essere il rossa carminio o il rossa magenta, che è uno dei colori mistici di Yves Klein, ma che chiaramente ha uno sguardo veloce, sommario, non informato, risulta genericamente un quadro rosso. Questo quadro rosso è interessante a livello collezionistico e su quello che vedremo fra pochissimo è il meccanismo economico di questa mostra. Allora, intanto, Yves Klein deve assistere chiaramente al primo diffondersi di un certo dileggio, ma direi che deve poi sopportare, tollerare, la seduta fotografica. Cioè nel momento in cui il fotografo viene a fotografare la mostra per fare degli articoli, gli articoli possono essere interessanti proprio per la bizzarria, per la comicità, per l'esilarante risultato di una mostra del genere. Ecco perché vi ho detto iniziando questa chiacchierata che in realtà stiamo parlando del disastro di una mostra, del disastro per Yves Klein, direi del dolore profondo, forse dell'impossibilità, vedremo se non con alcuni accorgimenti di poter esporre nel mondo, cioè nel mondo profano, nel mondo convenzionale, nel mondo che non sia all'interno, in cui l'arte non sia all'interno di una cerimonia religiosa e sacrale. Allora, che accade? Guardiamo queste foto. Questi sono alcuni scatti che trovate anche in rete tutti quanti, fanno parte anche dei riti e dei, scusate, dei blog ufficiali, o meno delle bibliografie che riguardano Yves Klein e la mostra alla galleria. Queste foto ci fanno capire una seconda umiliazione, l'umiliazione di cercare delle soluzioni che vivacizzino la posa. Macchina fotografica prestata forse da uno dei fotografi stessi, addirittura lui che sta spolverando una tela bianca che poi dovrà essere dipinta di blu, lui che addirittura sta iniziando una lavorazione, tanto basta un rullo per fare questi dipinti, non c'è bisogno né di pennello né di nient'altro perché sono completamente blu, addirittura in certi casi, e qui arriviamo al fondo del dileggio o del comico simulare qualche mossa di judo, rendere divertente, accattivante, curioso. Siamo in un ambito direi chiaro di mortificazione. Perché è importante questo servizio fotografico? Perché da una parte, l'aveva detto Baudelaire, l'artista forse è costretto nella civiltà contemporanea borghese a prostituirsi o a subire queste forme di dileggio o di derisione pur di poter trasmettere la sua opera, ma vedremo come verrà poi trasmessa questa sua opera, queste sue proposte, come verranno trasmesse. Con un particolare che volevo aggiungervi, addirittura nel servizio fotografico tutti riconoscete qui Ugo Tognazzi che è molto perplesso, abbastanza perplesso, decisamente poco convinto, sta osservando e contemplando un monocromo blu di Yves Klein. Questo sarebbe un ottimo servizio fotografico per un giornalista perché addirittura sarebbe capitato l'attore Ugo Tognazzi. Ho l'attenzione a questa foto perché in realtà non è, pur essendo anche all'interno di siti e di bibliografie ufficiali sulla mostra alla Galleria Polinare, questa foto non è della mostra alla Galleria Polinare, è una foto della mostra che verrà fatta a San Fedele, alla Galleria San Fedele Arte Nucleare, dove capitò essendo molto più mondana la serata anche Ugo Tognazzi e si fece questa foto. Questa foto poi oggi è stata immessa all'interno di quest'altra per rendere ancora più appetibile e divertente la serata. Lo capite subito non solo dal fatto che la Galleria non è la Galleria Polinare, ma qui la proposta monocroma non c'è Yves Klein, c'è il gallerista e il curatore che ha fatto una collettiva, ha attaccato con una catenella a chiodo a muro, mentre vediamo nelle foto dove lui fa le varie parti da clown come erano sistemate con questi supporti e distanziati le proposte monocrome al muro. Nella busta fotopress sono rimaste le foto che i giornali non vogliono e che sono le foto che ora vi faccio vedere e che vengono appunto da un mio ritrovamento della parte perlomeno leggermente più seria che sono queste per noi molto importanti perché vediamo il bordo delle tele. Certo, qui perlomeno Yves Klein si rapporta con delle pose che abbiano un minimo di serietà, ma non saranno queste le immagini che faranno il giro o che verranno pubblicate ma saranno ecco una liturgica di questo genere come un benvenuto che ci permette a noi di vedere ancora bene la posizione di tre di questi monocromi ma poi quelle che faranno più successo saranno queste cioè quelle dove lui gioca, scherza e trasforma in elemento comico con le maniche rimboccate il suo atelier e il suo operare. Questo è uno dei a colori uno dei monocromi di Blue Klein della mostra alla galleria Apollinaire. A questo punto noi abbiamo un elemento importante Yves Klein dopo la mostra alla galleria Apollinaire inizierà un controllo totale sulle immagini. Da adesso in poi avrà il suo ai fotografi il suo fotografo Ari Schunk e una truppe di fotografi quando deve fare dei filmati delle performance dei cineoperatori sotto il suo stretto controllo. Direi che uno degli elementi fondamentali è che la foto in mano cioè la riproduzione dell'opera d'arte e dell'evento d'arte in mano al mondo chiamiamolo il mondo ondano ruba l'anima dell'opera l'anima all'artista e ne rovina l'identità. Dunque siamo abbastanza felicemente sorpresi da adesso in poi già dal maggio del 57 alla galleria Colette Allendì già da quella data pochi mesi da questa mostra Yves Klein prende possesso totale anche dei mezzi di comunicazione cerca di creare un controllo cerimoniale un controllo che non immetta in tutte le parti di un allestimento di una esposizione di una proposizione di monocromi la volgarità del mondo la la fattuità la vacuità allora primo problema servizio fotografico e recensioni abbiamo detto secondo problema la guardatura di questa mostra che si collega al terzo problema che dovremo affrontare sono tutti uguali sono undici monocromi uguali più abbiamo detto uno rosso quadrato seconda grande delusione di Yves Klein che ha già sperimentato l'anno prima in un'altra mostra dove aveva esposto sempre da colletta l'indì a Parigi una serie di monocromi di colori diversi e con sgomento si era reso conto che il pubblico che arrivava li interpretava e li vedeva come elementi decorativi poco più che ideali per attaccarli in salotto come decorazione di carta da parati non più che di carta da parati e cioè come elementi ornamentali si rende si rende conto Yves Klein che non riesce a istituire la percezione dell'aura sacra del blu e cioè che si trova a muoversi in un mondo profano dunque nella mostra alla galleria Polinerre dal 2 al 12 gennaio del 57 comincia l'epoca blu cioè la riduzione di tutti i monocromi al colore dei colori all'assoluto per una maggiore diremo noi sacralizzazione per creare e produrre della magia anzi forse il fine è produrre dell'antimerce e ridare l'aura all'opera ma questa operazione al momento cioè nei 12 giorni della mostra fallisce miseramente perché secondo aspetto perché il pubblico quando entra a vedere la mostra i pochi che vengono a vedere la mostra una volta che hanno visto un blu hanno visto tutti i blu e escono la durata della guardatura dura pochi secondi a dir bene qualche minuto la mostra si può liquidare in 10 secondi basta vederne uno e poi uscire come si guarda un quadro cioè il problema centrale che comincia a porsi Yves Klein ma che è un problema di tutta l'arte contemporanea e non solo è la guardatura di un dipinto cioè qual è il tempo di guardatura di un dipinto cioè quanto va guardato un dipinto qual è il suo tempo di guardatura intendo come di lettura mi spiego il tempo di lettura di un libro non ci crea problemi cioè se ognuno di noi in questo momento prendesse in mano i promessi sposi non avendolo mai letto o i fratelli Kramazzov o cosa volete l'inferno di Dante perché vuole leggerlo rileggerlo ebbene male che vada per quanto sia una lettura velocissima affrettata fatta male nell'incomprensione volendo leggere tutti i versi se parliamo dell'inferno di Dante di tutti e 34 i canti dell'inferno minimo avrà bisogno se è fortunato con molta applicazione almeno di una settimana ma chiederà un mese e due mesi per leggerlo cioè nel momento in cui io affidassi come se fossi un artista la lettura della mia opera che è l'inferno di Dante i visitatori che prendono in mano l'inferno di Dante o che prendono in mano i promessi sposi hanno un tempo di lettura obbligatorio ciò non significa che la lettura dell'opera sia la conoscenza dell'opera perché poi chiaramente se io incontrassi uno di questi lettori che si è preso due mesi se non addirittura tre mesi di lettura poi alla domanda qual è la pena di Maometto oppure quale descrizione ci viene fatta della città di Lucca nell'inferno oppure che cosa pensa di quello che viene detto sul lago di Garda oppure se è convinto di quello che dice Dante riguardo a Fraddolcino potrei trovarmi potremmo trovarci in risposta beh questo non lo posso più ricordare non lo so non ce l'ho presente non l'ho mandata a memoria l'opera dunque immaginatevi cos'è il tempo di lettura di un'opera e il tempo di conoscenza in musica il problema è ancora più chiaro perché voi non potrete mai ascoltare la sesta sinfonia di Beethoven o il concerto numero 23 di Mozart accelerando saltando per ascoltarlo dovete se dura 25 minuti il concerto 23-24 a seconda dello stacco di tempo la sinfonia numero 7 di Beethoven dura 32 minuti dovete per 32 minuti disattenti l'ascoltate male però sono 32 minuti con lo stesso rischio della lettura e cioè che se poi sentite uno che la conosce attentamente vi dice come avviene la ripresa o il passaggio o la ripresa della forma sonata del primo tempo voi potreste dire no non sono a questi livelli l'ho ascoltato se andate a ascoltare il trista non di soldi di Wackler dovete stare quattro ore seduti a teatro dunque strano per la lettura per l'ascolto noi abbiamo un tempo che è un tempo diciamo almeno di umiltà dell'ascoltatore o del lettore di rispetto dell'opera Yves Klein nota quello che notano tantissimi artisti l'offesa di una guardatura che non è una guardatura cioè l'assenza nel pubblico della durata di lettura di un'opera quanto bisogna stare davanti ad un'opera quando possiamo dire che almeno l'abbiamo guardata cioè perlomeno è avvenuta la guardatura e non la lettura la domanda è ancora più specifica Yves Klein vuole capire e vorrebbe indicare e comprendere qual è il tempo di guardatura di un monocromo blu quanto tempo bisogna guardarlo come bisogna guardarlo a che distanza è chiaro che entriamo in una fenomenologia del rapporto tra chi guarda e l'opera che ci porterebbe via tutto il tempo possibile immaginabile qui ne accenniamo solo possiamo solo dire che Yves Klein al momento non può calcolare l'effetto positivo e cioè l'irradiazione che questa mostra sta avendo diciamo in pochi eletti in pochi felici terzo elemento poi tutto spero che possa essere rimesso a posto se gli undici monocromi costano 25.000 lire l'uno noi abbiamo un problema spinoso e Yves Klein se ne accorge ed è il terzo elemento catastrofico della mostra se costano la stessa cifra vuol dire che forse sono dei multipli forse c'è un originale queste sono delle ed è un'edizione sono stanno accettando o meglio lui ha accettato al momento un elemento del mercato una consuetudine del mercato pericolosissima quella di avere undici quadri undici proposte monocrime intescambiabili l'uno per l'altro sono 25.000 lire l'uno ah Buzzati nel suo articolo ci dice che è un prezzo io non ho fatto il calcolo che è un prezzo molto molto buono cioè un buon prezzo un bel prezzo basso non costano tanto ma a questo punto io sarò legittimato a guardarli uno per tutti ma soprattutto andiamo a vedere chi comprò i due famosi pezzi cioè nell'articolo di Buzzati ma anche nel fotopresse la fotopresse parte quella che vi ho riassunto all'inizio il 12 gennaio cioè a mostra finita si faranno gli articoli non per il pubblico che dovrà andare a vedere questa mostra ma per divertirsi per ridere un po' insieme sull'arte contemporanea o la la nuova arte e due persone hanno comprato i dipinti il primo e su questo Buzzati ci scherza da astuto giornalista e bravo giornalista uno è stato Lucio Fontana Lucio Fontana ha acquistato uno dei monocromi blu particolare importantissimo non mi soffermo se non con due parole sulla generosità immensa sempre di Lucio Fontana con i giovani artisti lo farà sempre comprerà sempre in una mostra di un giovane artista almeno un pezzo in questo dimostrando un'attenzione una delicatezza straordinaria ma c'è un particolare il blu comprato il monocomo comprato da Lucio Fontana noi lo ritroveremo poco tempo dopo in una mostra quando dico poco tempo significa mesi cioè il maggio il 25 maggio del 1957 la seconda mostra dopo l'inaugurazione della galleria blu di Peppino Palazzuoli e dunque cominciamo a capire che questa mostra è esplosa sotterraneamente ma esplosa perché pochi mesi dopo a Milano viene inaugurata una galleria intitolata Galleria Blu e riferimento chiaramente l'omaggio è a questo blu di Yves Klein e a questa mostra non solo la prima mostra Ottone Rosai la seconda mostra Palazzuoli la dedica a due collezioni cioè i quadri della collezione di Lucio Fontana e i quadri della collezione di Bruno Munari pensate bellissima mostra cioè che cosa possiedono Bruno Munari cosa possiedono Bruno Munari e Lucio Fontana nelle loro collezioni e dunque uno di questi che vediamo in queste foto non saprei dire ovviamente quale anche se fa parte della fondazione Lucio Fontana oggi questo monocromo per cui è rimasto nell'abbraccio di affetto e di devozione di Lucio Fontana viene esposto durante la mostra tra le collezioni di Lucio Fontana non solo nel secondo articolo che vedremo scriverà Dino Buzzati non solo Dino Buzzati attesta la creazione di una galleria e cioè la galleria blu di Peppino Palazzuoli ma che nel 1958 è esplosa la canzone nel blu dipinto di blu di Modugno ispirata alla mostra alla galleria Pollinaire e al blu di Yves Klein Klein ha sempre detto il caso è l'unica luce l'unica vera luce nell'avventura dell'arte il caso qui ovviamente è il caso della provvidenza è dell'elemento dell'aura e della serietà del dipinto allora primo pezzo comprato da Lucio Fontana secondo pezzo secondo pezzo entriamo nei rumores cioè sono pettegolezzi sono dicerie non abbiamo una documentazione sì abbiamo una documentazione scritta ma sono resoconti e testimonianze ma come ci ha insegnato Tacito i rumores sono pieni di verità e pieni di indicazioni la secondo pezzo lo ha comprato un giovanissimo collezionista alle sue prime armi Giuseppe Panza di Biumo ma attenzione perché sento ancora un dilettante come collezionista un neofito un neofita vi ricordo che i collezionisti alle prime armi hanno sempre un difetto quello di credersi o di ritenersi furbi cosa fa Giuseppe Panza di Biumo compra o meglio promette di comprare e si porta così a casa per provarlo dopo la fine della mostra il rosso cioè Giuseppe Panza di Biumo pensa giustamente crede giustamente che essendo tutti dello stesso prezzo tutti uguali 11 monocromi blu ah se sono 11 tutti uguali allo stesso prezzo potrebbe farne anche 11.000 ma anche 111.000 scusate che problema è a produrre 111.000 monocromi blu tutti 56 per 78 a 25.000 facendo un calcolo da nuovo collezionista con una furbizia che in questo caso non lo ripaga vedremo Giuseppe Panza di Biumo acquista quello rosso a per poi restituirlo la vulgata racconta ci sono diverse testimonianze che poi lo riporterà a Guido Le Noci alla galleria perché non è convinto c'è qualcosa che non lo convince in questa mostra ci sono troppe cose che non convincono dunque la sorte del rosso è una sorte misera all'inizio era stato scelto perché doveva essere l'unicum l'eccezione e dunque Giuseppe Panza di Biumo aveva calcolato di prendere perlomeno qualcosa che non assomigliava per poi venire a sapere che di monocromi colorati di rosso ma io penso che fosse un rosa magenta o un rosso carminio in creme ne aveva fatte e continuavo a farli a farle ma rimane il problema rimane il problema del prezzo del mercato e dell'economia vi ricordo un elemento prima di arrivare all'ultimo passaggio straordinariamente importante io penso quello del costo di questi dipinti e poi dobbiamo ricordarci della durata quanto vanno guardati nel 1954 Yves Klein aveva già capito il problema della mostra dell'esposizione diciamo nel tempo della riproducibilità dell'opera d'arte ma io direi nel tempo della volgalità dell'opera d'arte cioè dell'esperienza dell'arte in mano al dileggio e al divertimento e alla derisione tanto che in Yves Panture lui aveva vi faccio vedere velocemente aveva prodotto un libro lo vedete nel 54 pochissimi esemplari Claude Pascal con delle linee fa la prefazione è un oggetto straordinario in cui il catalogo attesta una mostra mai avvenuta cioè la mostra non c'è mai stata la mostra è non esistente invisibile ma il catalogo il libro riporta dieci monocromi e qui avete il rosso magenta il rosso carminio da cui io ricostruisco il fatto che non era un rosso generico riporta dieci monocromi tra cui anche il blu oltremare con delle misure in centimetri attenzione non sono scritte in centimetri sono soltanto segnati i numeri cioè 121 per 70 dunque se sono millimetri corrispondono a quelli del libro cioè a quelli reali il ritaglio di colore se sono in centimetri corrisponderebbero a un eventuale dipinto in mostra originale che non c'è dunque questo è un catalogo che riproduce e riporta dipinti inesistenti o meglio usiamo un altro termine invisibili non solo se lo prendiamo in metri sarebbero dei murales in un'altra versione di Yves Pintu Yves Klein addirittura riporta chi possiede l'originale cioè si inventa si era inventato i collezionisti possessori di quei dipinti dunque l'esordio di Yves Klein nell'arte si trova a Madrid quando fa questa operazione editoriale straordinaria e cioè pubblica un catalogo di una mostra che non c'è ma inventata dunque una menzogna un sortileggio una ciarlataneria una invenzione una magia ebbene si trova a Madrid perché ha aperto la scuola di judo lì e c'è un particolare Yves Klein dunque capisce che si può mentire che significa capisce che si può mentire capisce questo un mese dopo questa mostra e qui arriviamo al terzo punto e ultimo punto un mese dopo questa mostra e dunque siamo a febbraio il 15 febbraio del 1957 Yves Klein in una intervista a Le Monde perché sta curando e seguendo attentamente due mostre in contemporanea a Parigi vedremo velocissimamente cosa sta facendo sempre da Allende e poi da quella che sarà una delle sue storiche prima della Litte nel 59 galleriste la greca Iris Kler ebbene afferma una cosa in questa intervista parla del successo della mostra alla galleria Polinare proposte monocrome e aggiunge un fatto in quella occasione il pubblico percepì immediatamente il fatto che gli undici monocromi erano uno diverso dall'altro come intensità come auricità come immaterialità o sensibilità immateriale pittorica e afferma ognuno degli undici monocromi aveva un prezzo diverso qui inizia una favola cioè qui inizia è il racconto della mostra nel 59 durante la conferenza alla Sorbona sancirà come un dato di fatto tanto che lo ritroverete in centinaia in centinaia di pubblicazioni studi su Yves Klein che durante la mostra alla galleria Polinare a Milano gli undici monocromi avevano prezzi diversi allora questo non è vero questa è stata una favola una straordinaria invenzione un bisogno che rende nel che fa saltare esplodere nel concettuale da adesso in poi tutta l'operazione di Yves Klein e Yves Klein sancisce che questi monocromi hanno un prezzo diverso sarà lo spettatore o meglio la sua sensibilità che saprà riconoscere e spesso indicherà chiaro grandissimo immenso omaggio a Lucio Fontana Yves Klein affermerà più volte che Lucio Fontana scelse il più caro inevitabilmente l'occhio ma direi l'anima la capacità di guardatura di Lucio Fontana è stata in grado di scegliere il monocromo con il prezzo più alto l'invenzione che applicherà adesso a tutti i monocromi di un prezzo a seconda di un surplus di immaterialità e di magia che la tela possiede è un passaggio fondamentale per trasfigurare l'umiliazione della mostra e cercare di sacralizzare e di rendere cerimoniale l'intero apparato espositivo allora non solo noi avremo adesso prezzi diversi a fare prezzi diversi ve lo dico in due parole significa far saltare tutto il sistema in maniera straordinaria economico e cioè il sistema mercantino economico perché chiunque di voi sa che i quadri vanno a centimetri e se sono dello stesso centimetro allo stesso anno non puoi fare prezzi diversi ma soprattutto che ci deve essere un criterio Yves Klein dice che il criterio è la sensibilità immateriale e questo comincia a rendere difficoltoso il colloquio con i galleristi con i collezionisti con il pubblico e giocando con l'economia che Yves Klein comincia ad ascendere all'Empireo o meglio a far ascendere il suo blu all'Empireo non solo da Collette all'Indy a maggio dopo che ha già stabilito il racconto e la favola di questa sua mostra nella stanza superiore al piano superiore per la prima volta non metterà ai muri se non monocromi invisibili cioè al piano superiore il pubblico sale ha delle pareti vuote e deve fare quel cerimoniale irritante di quando guardiamo un dipinto in maniera veloce mettendoci un pochino dietro per mirarle la nostra sensibilità per mirare e sapere che cosa significa ebbene i visitatori così frettolosi così boriosi dovranno o ridendo o sgomenti o in maniera buffonesca dovranno su indicazione di Yves Klein guardare il vuoto sentite che siamo a pochi mesi 1958 alla mostra da Iris Claire Levitt cioè il vuoto dove Yves Klein misura tutta l'esposizione dal momento dell'invito a casa fino al prezzo per entrare o la gratuità fino alla bevanda color blu fino alla permanenza dentro una galleria vuota e cioè organizza un cerimoniale che trasforma la galleria in un luogo sacro e l'esposizione in una esperienza intagibile incomunicabile e immateriale il pubblico entra contingentato uno per volta dentro la galleria di Iris Claire e si ferma in una stanza completamente vuota ha tutte le foto delle vid tutto il materiale che riguarda quella leggendaria esposizione è sotto lo strettissimo assoluto controllo dalle foto alle pubblicazioni alle immagini da diffondere di Yves Claire che ovviamente non è più disposto a prostituirsi o a trovarsi macchiata sporcata infangata la sua opera il passaggio diciamo esplosivo del sistema economico per cui è l'artista che decide il prezzo del valore immateriale della sua opera cioè dell'aura ripristina in maniera economica il prezzo porterà nell'arco di pochissimo tempo un anno e qui il protagonista è Peppino Palazzoli e dunque straordinario alla vendita del primo dipinto invisibile e immateriale Iris Claire lo deve vendere perché non li ha e dunque ha dedicato con Yves Klein che le ha detto a questo punto mi dispiace se qualcuno ti chiede i miei dipinti gli dici che i miei dipinti sono invisibili sono diventati a uno stato ormai sono diventati immateriale a uno stato di immaterialità assoluta l'unico problema è ancora nell'ambito del gioco economico come un bambino che finalmente può scherzare con l'economia Iris Claire chiede a Yves Klein un certificato e cioè un modulo un libretto degli assegni una cedola e cominciano le cedole in cui si possa attestare che io in quel caso Peppino Palazzuoli sono possessore di un quadro invisibile da lì a poco sapete già che comincerà a cedere non più in cambio di oro perché istituirà un'economia del baratto e un'economia di scambio e non più un'economia monetaria ma solo in cambio di oro di oro la metà verrà data al gallerista l'altra metà verrà gettata non prende niente lei non si sporcherà più con il denaro diventerà sempre più assoluto il suo percorso cederà delle zone di immaterialità di sensibilità immateriale e tra questi lo vedremo adesso a Dino Buzzati un particolare per concludere per avviarci alla conclusione il primo è questo ma questa mostra a questo punto è cambiata totalmente è cambiata nella leggenda che ne ha costruito lo stesso Yves Klein abbiamo una galleria blu a Milano abbiamo una canzone che è stata famosissima abbiamo la vendita o meglio lo scambio attraverso lamine d'oro di di materiale invisibile di poesia o pittura invisibile ma c'è rimasto un elemento intanto il primo a cui dobbiamo rispondere come vanno guardati questi dipinti beh c'è una cosa che sorprende nella ricerca delle testimonianze di una mostra come questa cioè gli articoli di giornale le interviste come vi ho detto il caso è l'unica luce in una intervista cioè in una chiacchierata dove sta parlando di tutt'altro di molti anni dopo dell'82 Pierre Stanic era il curatore di questa mostra colui che aveva fatto il raffronto con Giotto dice un particolare straordinario cioè di una capacità di illuminazione incredibile ci dice che questa mostra andò malissimo questo l'abbiamo capito non venne quasi nessuno se non tutti i giorni capitava un ragazzo cioè dice un ragazzo dal 2 gennaio al 12 gennaio è venuto tutti i giorni a guardare questa mostra subito diciamo una cosa uno straordinario guardatore un guardatore pazzesco il ragazzo sappiamo chi è perché ne chiede informazione Pierre Stanic è Piero Manzoni Piero Manzoni giovanissimo ancora all'inizio della sua carriera tutti i giorni si reca alla galleria Poliner a guardare a leggere questi monocromi blu già questo gli darebbe di diritto la gloria ma direi che ci dà un'altra indicazione importante la guardatura dei monocromi blu come tutte le guardature delle mostre di Yves Klein e delle grandi mostre coincide con il tempo di esposizione della mostra il tempo di esposizione della mostra non è il tempo per dare la possibilità a varie persone nei loro impegni quotidiani di poter capitare affacciarsi a vedere la mostra il tempo della mostra è il tempo della guardatura della mostra non della conoscenza infatti dal 2 gennaio al 12 gennaio cosa fa Piero Manzoni va 11 volte a guardare gli 11 monocromi blu uno per giorno tutti i giorni quanto tempo rimane? beh c'è da dire una cosa Yves Klein svilupperà un concetto molto chiaro della guardatura di un dipinto quello che si chiama il languore visivo che però sarebbe destinare ad un altro incontro che riguarda la posizionatura di colui che guarda davanti a un dipinto solo un particolare per capire questo abbiamo detto il blu di giotto in realtà ricordatevi che c'è una tradizione esoterica sul blu Klein e noi sappiamo che i punti di riferimento sono da una parte il crocifisso di ogni santi di giotto vedete chiaramente non solo il blu Klein cioè l'oltremare lapislazzuli il rosa carminio e l'oro cioè i tre colori mistici di Yves Klein con con l'incarnazione di Cristo crocifisso sul blu sul blu oltremare ma noi abbiamo le tre età dell'uomo di Tiziano il fondo di questo dipinto ci dice chiaramente che il giovane in languidito d'amore è l'atteggiamento di languore non sonoro in questo caso ma di guardatura di quel blu nel quale deve terminare al più presto la finzione dell'esistenza i bambini addormentati accuditi da cupido i due giovani devastati dall'amore dalla passione d'amore e queste sono le tre età dell'uomo ma non esiste la maturità esiste solo un vecchio vedete è in secondo piano che tiene le teste di questi due giovani perché dalla giovinezza bisogna spiccare il volo e qui abbiamo terminologia tutta di Yves Klein bisogna spiccare il volo in quell'azzurro là in fondo ah chiaramente per Yves Klein il blu che aveva in mente che forse non è riuscito neanche con il suo brevetto a trovare è quella pennellata che intravedete o meglio che intravediamo perché solo dal vivo si può intravedere nella galleria di Edimburgo dove la vita è terminare e ritornare nel liquido blu questo riassume un po' quello che abbiamo detto perché perché i lingotti d'oro che non che non vengono gettati in mare nel fiume nella senna vengono poi utilizzati per questo ex voto per Santa Rita Santa Rita è la santa delle pausi impossibili a cui era molto devoto il cattolicessimo di Yves Klein è un cattolicessimo della incarnazione lo vediamo dal suo colore ma chiudo con due particolari con ovviamente il dispiacere di non poter toccarne tantissimi altri allora abbiamo visto quasi salvato dalle testimonianze grazie al caso la presenza di un vedente di un guardatore straordinario come come Piero Manzoni a quella mostra come finisce la parabola di Dino Buzzati Dino Buzzati verrà chiamato da Yves Klein perché gli vuole regalare un'opera per gli articoli che ha scritto per l'articolo che ha scritto blu 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 forse l'unico abbiamo detto senza di leggio e con un minimo di grazia e di attenzione in realtà apparentemente sarà delusione perché perché Dino Buzzati invece ha la proposta di poter acquisire una zona di immaterialità pittorica che significa che in mano non avrà nulla non avrà nessun oggetto se no la cedola avrà la cedola credo che tutti abbiate presente questa immagine di Dino Buzzati con la cedola e le foglie d'oro che vengono gettate nella Senna siamo nel lungo Sella a Parigi Dino Buzzati in quella cedola c'è scritto che Dino Buzzati è diventato attenzione il proprietario ma non il possessore il proprietario dal punto di vista economico di una zona immateriale per poter diventare possessore intimo deve bruciarla infatti credo che notiate anche se la foto è piccola che la sua cedola è stata infiammata cioè la sta tenendo su un margine perché deve bruciare ebbene in un articolo questa volta serissimo straordinario intensissimo sortilegio a Notre Dame sortilegio a Notre Dame Buzzati racconta che confessa un peccato il fatto che il vento gelido di quella mattina dopo poco spegnerà questa cedola e lui non l'ha bruciata tutta ne ha conservato un frammento un lacerto come se fosse una reliquia perché la cedola deve bruciare perché se il proprietario vuole diventare possessore e rinuncia anche alla cedola allora tutto l'oro viene buttato chi non rinuncia alla cedola cioè al piacere del possesso allora quell'oro viene impiegato per gli ex voto dunque Dino Buzzati dice non ho resistito a questa sorta di sublime follia di un Yves Klein che sta mandando per aria tutti i sistemi economici per arrivare a un possesso di immaterialità e di invisibilità totali chiudo chiudo con un pensiero che ho sempre pensando alle foto che abbiamo visto di Yves Klein deve spolverare le sue tele o deve fare mosse di judo la morte di Yves Klein credo che sappiate che Yves Klein muore in conseguenza di tre infarti a distanza di pochissimo tempo uno dall'altro le testimonianze soprattutto della vedova della giovane vedova che in quel momento stava aspettando un bambino che si chiamerà poi Yves perché nascerà con Yves Klein già morto a 34 anni i tre infarti sono 12 maggio 15 maggio 6 giugno da cosa è dovuto l'infarto la conseguenza di un dileggio il frutto di una umiliazione il registro a Jacopetti ha girato un film che viene presentato a Cannes al festival di Cannes Mondo Cane 1962 si è presentato a Yves Klein dicendo che era un documentario un docufilm sapete tutti chi lo conosce di voi che inaugura quella specie di finti docufilm dove ci sono scene stravaganti bizzarre comiche assurde con la scusa di fare dei reportage coloniali ma anche un po' erotico pornografici bisogna raccontare stramberie assurdità orrori con una chiave di intrattenimento come un docufilm come un documentario tra le stranezze niente di meglio che andare a filmare Yves Klein che sta producendo le sue antropometrie cioè dei dipinti in cui la modella il rapporto tra il pittore e la modella si alza si ricopre di colore e imprime sulla tela l'aura immateriale e corporea della sua integrità di corpo e anima immaginatevi il gesto di una modella che per secoli è stata nuda davanti a un pittore che si alza si riveste di blu e attraverso questa materialità rende immateriale il sudario come una sacra sindone tutta femminile una veronica mistica ebbene cosa fa Jacopetti chiede a Yves Klein nel suo documentario di poter inserire questa cerimonia questa performance serissima sacrale per Yves Klein uno potrebbe chiedermi ma perché non l'ha controllato no Yves Klein controlla tutto cioè controlla quale cosa prenderà del filmato vieta qualsiasi tipo di montaggio se non montando solo le immagini che ha non può aggiungere immagini esterne dunque è tranquillo quando la sera a Cannes davanti a tutto il pubblico a tutta la stampa vede e potete tutti vederlo in in rete basta fare mondo cane Yves Klein vede come è stato montato e inserito il suo la sua performance di antropometrie ha una ha un dolore una stretta da cui non si riprenderà più è un dileggio un'umiliazione cosa ha fatto Jacopetti lo ha ingannato furbescamente con un'estrema intelligenza cambiando la colonna sonora cioè ha fatto una cosa nelle antropometrie Yves Klein dà una indicazione perché c'era un'orchestra con un coro che emetteva una nota sola 20 minuti monotono una sinfonia di un solo suono assoluto 20 minuti di un solo suono e 20 minuti di silenzio durante i 40 minuti di suono e di silenzio le modelle queste ragazze si rivestivano totalmente di blu e poi le imprimevano ebbene cosa ha fatto Jacopetti ha tenuto tutto il filmato ma dopo che Yves Klein ha dato il via all'orchestra nel momento preciso in cui vengono inquadrate le modelle inserisce una musica da nightclub una musica erotica che inevitabilmente è uno dei motivi per cui non lo mando io il filmato è un momento in cui noi tutti sorridiamo e ridiamo e partecipiamo al dileggio perché chiaramente devo dire genialmente Jacopetti trasforma una cerimonia in una allusione volgare bassa a questi nudi femminili il testo le immagini rispettano Yves Klein ma qui la musica lo inganna lo colpisce come un vero e proprio tradimento facendo precipitare tutta l'immagine dovreste vedere cosa c'è prima e dopo dopo c'è subito un balletto tipicamente da cultura colonialista africane nude e lì il nudo viene associato di nuovo all'eros ebbene nell'assistere a questo filmato noi comprendiamo come tutto viene precipitato in maniera vergognosa nella volgarità nelle allusioni del mondo quel mondo da cui cercato in tutte le maniere di tenersi distante nell'assoluto empireo Yves Klein noi con questa chiacchierata in realtà siamo rimasti nella soglia di questa mostra e nella soglia anche dello stesso Blue Klein proprio perché io sono convinto che c'è una parte di quest'opera che deve restare e deve rimanere nell'ambito del mistero vi ringrazio per l'attenzione grazie